Mi chiamo Giorgio Albonico, sono laureato in medicina e chirurgia, ho fatto per anni l'ospedaliero e ora esercito la libera professione. Accotete la mia attività di medico, ideato nel 2014 e organizzo il Premio Città di Como che ora è giunto alla nona edizione. Insieme al Premio organizziamo anche incontri culturali e visite guidate a favore del turismo culturale sulle magiche sponde del lago di Como. Ho scritto libri sull'antica Grecia e di altri libri su argomenti vari. L'ultimo è il libro intitolato Attraverso i mondi che parla della figura di Francis Burton che fu un esploratore vittoriano che morì poi a Trieste in qualità di console. È una figura estremamente affascinante anche perché era un uomo colto che conosceva circa 28 dialetti. I caratteri si ispirano ai caratteri che è un'opera di Teofrasto scritti verso la fine del IV secolo a.C. Sono modelli morali che io ora trascrivo e vedo in chiave moderna. C'è lo spilorso, il diffidente, l'adulatore, il piacione e altri caratteri fino ad arrivare al numero di 30 che hanno delle caratteristiche morali e delle qualità intrinseche. Corrè dal libro una serie di ritratti che evidenziano i difetti caratteriali descritti e il tipo psicologico.